La Italia con le sue marchi Elicente di Nile è una società leader a livello mondiale nel settore della ventilazione. Oggi vi porta alla scoperta di una produzione che è stata recentemente rinnovata e innovata per quanto riguarda i box a trasmissione. Andiamo a scoprire i dettagli tecnici con il responsabile dello sviluppo del progetto. Seguitemi. Ci troviamo nel reparto produttivo di Maiko Italia all'onato del Garda dove l'azienda sviluppa il 100% delle proprie produzioni e quindi sono chiaramente menu. Buongiorno, ho il piacere di presentarvi questa nuova serie di ventilatori cassonati a doppia aspirazione che recentemente ho avuto il piacere di progettare. Questa gamma racchiude 12 taglie che vanno dal taglia 7,7 alla taglia 6,30 con prestazioni da 2.000 a 30.000 metri cubi. Questo ci garantisce di coprire la maggior parte delle richieste da parte del cliente. In questo caso abbiamo fatto una preselezione di codici già pronti a magazzino che ci permette di avere una consegna veloce di tutta questa gamma. Questo non toglie la possibilità di avere altre tipologie di macchine con vari punti di lavoro. Stiamo ora alla scoperta dei dettagli che abbiamo implementato in questo progetto per rendere questa macchina più innovativa rispetto al passato. Abbiamo apportato l'utilizzo di queste maniglie ergonomiche per una facile... I pannelli della macchina sono rivestiti in materiale poliuretano espanso con un film protettivo che garantisce una facile pulizia della macchina una volta installata. Inoltre, passo successivo, abbiamo utilizzato una cinghia in EBDM che garantisce il corretto apporto di potenza e con una tecnologia innovativa che permette praticamente la manutenzione, di non effettuare la manutenzione. Cioè, dopo le prime ore di utilizzo della macchina, con le cinghie di vecchia generazione, si era costretti al tensionamento del motore dopo il primo avvio. Con queste tipologie di cinghie, questo è assente e per l'installatore è una garanzia di prestazione e di... L'unità ventilante e il motore sono sostenuti da profili in alluminio e da un giunto antivibrante in mandata e degli antivibranti. Questi antivibranti permettono lo smorzamento delle vibrazioni fino ad un valore del 90%. Questo garantisce maggiore stabilità della macchina e impedisce il propagarsi della vibrazione al canale. Bene, ringrazio il signor Marco Ferlenga che ci ha egregiamente illustrato dettagli e particolari che non sempre sono a disposizione del pubblico. Ma Maico Italia è un'azienda trasparente e innovativa alla quale fa piacere condividere anche questi aspetti e soprattutto gli egregi risultati che abbiamo ottenuto con questa nuova serie di box a trasmissione centrifughi. I ulteriori dettagli sono evidentemente disponibili sui nostri siti istituzionali.